Musica Continua a salire la curva dei contagi in Sardegna. Oristano conta la prima vittima da coronavirus. All'ospedale San Martino è operativo il reparto Covid. Sanità oristanese, il Consiglio Comunale ha approvato un ordine del giorno. Benvenuti alla nuova edizione del Tg Oristanese. Sono 8.164 i casi di positività al Covid-19, complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento delle unità di crisi regionale si registrano 174 nuovi casi, 126 rilevati attraverso attività di screening e 48 da sospetto diagnostico. Si registrano 7 decessi, 4 avvenuti il 26 ottobre e 3 nella giornata odierna. Le vittime, 199 in tutto, sono 3 uomini e una donna tra gli 81 e i 93 anni, residenti nel sud Sardegna, 2 uomini di 86 anni della città metropolitana di Cagliari e un uomo di 58 anni della provincia di Oristano. In totale sono stati eseguiti 253.445 tamponi con un incremento di 2.544 test. Sono invece 306 pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi, più 3 rispetto al dato di ieri, mentre di 36 con un più 1 il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 4.719. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 2.883 con un più 40 pazienti guariti, più altri 21 guariti clinicamente. A Oristano oggi si registrano 4 pazienti guariti, un decesso e nessun contagio. L'aggiornamento sulla diffusione del coronavirus a Oristano è stato comunicato al sindaco Luzzo dalle autorità sanitarie. Oristano conta la prima vittima da coronavirus. Profondo cordoio è stato espresso dal sindaco di Oristano Andrea Luzzo. I dettagli nel servizio. Oristano piange la prima vittima a causa del coronavirus. Si tratta di un volontario del soccorso di 56 anni, dipendente del consorzio di bonifica, originario di Busacchi, che era ricoverato da qualche giorno all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, il cui decesso è avvenuto la notte scorsa. Profondo dolore è stato espresso dal primo cittadino oristanese. È una notizia che ci rattrista e che ci fa riflettere sulla gravità del momento, ha affermato Andrea Luzzo, che appena appresa la notizia dall'aslo oristanese, ha contattato il sindaco di Busacchi per testimoniare il cordoio della comunità oristanese ed estenderla anche ai familiari del paziente deceduto. Piangeva una persona nota per il suo impegno nel volontariato e che anche durante questa emergenza sanitaria si era distinta per la sua generosità. Se durante la prima andata della pandemia oristana era stata risparmiata, in queste settimane anche la nostra comunità sta facendo i conti con tanti contagi e purtroppo oggi anche con il primo decesso, ha aggiunto Luzzo. Le misure di contrasto alla diffusione del virus devono essere seguite scrupolosamente, ma ancora più scrupolosamente occorre una forte presa di coscienza da parte di ogni singolo cittadino. Tutti devono fare la loro parte e rispettare le regole. Come avete sentito dai titoli, operativo da oggi, 27 ottobre, il nuovo reparto Covid dell'ospedale San Martino di Oristano. Vediamo. È entrato in funzione il nuovo reparto Covid presso l'ospedale San Martino di Oristano. Dotata di 10 posti letto, la nuova area è destinata ad ospitare i pazienti con accertata positività al nuovo coronavirus e che necessitano di ospedalizzazione. Questa mattina, fanno sapere dalla ASL, è stato avviato il trasferimento dei primi pazienti Covid positivi dal pronto soccorso al nuovo reparto, trasferimento che si protrarrà per l'intera giornata. La sua attivazione, continuando dalla ASL, consentirà di decongestionare il pronto soccorso dell'ospedale San Martino, che in questi giorni non è mai stato chiuso, ma il cui accesso è stato riservato ai soli casi Covid, considerata la necessità di garantire a tutti gli utenti la massima sicurezza dei percorsi di diagnosi e cura. Intanto il Consiglio Comune di Oristano ha approvato un ordine del giorno in cui si prende coscienza della situazione in cui inversa la sanità oristanese. Vediamo. Il Consiglio Comunale di Oristano nella seduta di ieri ha approvato all'unanimità un ordine del giorno proposto dalla Commissione Speciale per la Sanità Oristanese, Presidente Fisio Sanna, nel quale si prende coscienza della drammatica situazione in cui inversa la sanità oristanese. Nel documento l'Assemblea auspica che da tutto il territorio provinciale nasca una collettiva responsabile mobilitazione e prenda piede l'idea di una sanità condivisa, uniforme, strutturata e funzionale. In particolare il Consiglio Comunale di Oristano, con ferma e democratica decisione, rivendica la garanzia e il ripristino dei livelli essenziali di assistenza con prestazioni sanitarie appropriate ed efficaci attraverso una sanità pubblica di qualità, integrata e non sostituita con quella offerta dai privati. La riorganizzazione del sistema sanitario provinciale, tenendo conto delle esigenze e delle peculiarità del territorio, partendo dal miglioramento della medicina di base quale prima porta di ingresso verso il sistema sanitario ed esaltando al meglio la prevenzione, arricchendo i tratti positivi della medicina di prossimità, domiciliare, distrettuale e dell'assistenza residenziale e semiresidenziale dei soggetti fragili, non trascurando l'integrazione funzionale dei vari servizi offerti e la valorizzazione della rete ospedaliera provinciale, senza prescindere dal principale ospedale, il San Martino di Oristano, che resta l'insostituibile presidio sul quale costruire un livello qualitativo di assistenza e cura. L'appello è rivolto ai soggetti politici e territoriali, ai legislatori regionali eletti nel Collegio di Oristano, ai rappresentanti del territorio presenti in giunta regionale e agli organi di governo della sanità pubblica. Ad essi viene chiesta una forte assunzione di responsabilità e impegni concreti a difesa e valorizzazione della sanità provinciale oristanese, che partendo dall'irrinunciabile superamento dell'evidente squilibrio di mezzi, sappia volgere verso una visione in grado di dare risposte al bisogno di salute, la promozione e l'adozione di interventi, azioni e atti di natura sanitaria attesi al potenziamento e riqualificazione dell'ospedale San Martino, alla valorizzazione dei nosocomi di Bosa e Ghilarza. Il Consiglio Comunale Oristanese esprime infine una convinta adesione al momento di mobilitazione territoriale del 7 novembre prossimo, promosso dalla Commissione Speciale per la Sanità Oristanese, unitamente alle sigle sindacali CGL, CISLE, WILL, dando pieno mandato al Sindaco di adottare tutti gli atti utili e necessari a realizzare e raggiungere gli obiettivi della deliberazione in oggetto. E rimaniamo sempre fermi sulla sanità oristanese, che rischia di implodere a causa dell'emergenza Covid. A lanciare l'allarme è proprio l'Associazione Regionale Medici Dirigenti. Carenza estrema di personale sanitario praticamente in tutti i reparti ospedalieri, tagli lineari e blocco del turnover. A lanciare il grido di allarme e un appello alla politica regionale affinché intervenga il più presto possibile è l'Associazione Regionale dei Medici Dirigenti. La sanità oristanese non ha evidenziato capacità di reazione e di organizzazione funzionale a sanare le problematiche vecchie e quelle ora emergenti per via del nuovo coronavirus. Così, per fronteggiare la nuova emergenza, i medici propongono un modello articolato su tre punti. Reparto Covid per pazienti non critici, reparto dedicato a Ghilarsa e sistemazione in hotel per i pazienti asintomatici ancora positivi. Auspicano anche il ricorso a tutte le forme contrattualmente possibili, compresa la mobilità d'urgenza, per rafforzare la sanità oristanese e consentirle di fronteggiare al meglio le istanze di salute della popolazione. Tutto ciò deve accadere con la massima tempestività e avendo cura di non penalizzare l'offerta assistenziale per le altre patologie non Covid, ha affermato il segretario dell'Associazione Luigi Curreli. Il nosocomio oristanese non può ospitare un reparto per pazienti critici perché non ha le forze necessarie a fronteggiare questo ulteriore carico di lavoro. Al via il monitoraggio sulla circolazione del virus tra gli studenti, i dettagli nel servizio. Oggi il sindaco Andrea Luzzo e l'assessore alla pubblica istruzione Massimiliano Sanna hanno fatto il punto sulla situazione nelle scuole elementari e medie di Oristano nel corso di una riunione da remoto con i dirigenti scolastici. Al momento ci sono tre classi in quarantena nelle scuole dell'infanzia, alle elementari e alle medie e alcune situazioni in evoluzione di cui attendiamo l'esito, hanno affermato Luzzo e Sanna. Alle superiori la situazione è anche più seria. Se i numeri dovessero rimanere questi, il pericolo della chiusura potrebbe anche essere scongiurato. Purtroppo non c'è la garanzia che i numeri rimangano questi e i bollettini quotidiani, anzi, offrono la testimonianza di una situazione che sta peggiorando velocemente. Dobbiamo essere realisti e molto concreti a beneficio della popolazione, hanno aggiunto Luzzo e Sanna. In intesa con i presidi, abbiamo stabilito di effettuare una ricognizione quotidiana per capire l'evoluzione della diffusione del nuovo coronavirus tra studenti e personale scolastico. Voltiamo completamente pagina. Un uomo di 79 anni ha fatto perdere le proprie tracce a Sini. È stato il sindaco del paese a chiamare i Vigili del Fuoco di Oristano perché l'anziano non rispondeva al proprio domicilio. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Ales che, entrando nell'abitazione, ha constatato che il proprietario non era all'interno. Successivamente, i carabinieri della compagna di Mogoro hanno attivato le indagini, che in poco tempo hanno portato a localizzare l'auto dell'uomo parcheggiata in un podere in campagna tra Villa Sant'Antonio e Assolo. Informata la prefettura di Oristano, la squadra dei Vigili del Fuoco di Ales e i carabinieri hanno effettuato una prima ricerca speditiva che ha permesso di trovare l'uomo cosciente e infredolito. L'anziano ha raccontato di aver trascorso la notte alla ghiaccio, poi è stato sottoposto ad un controllo medico. A Oristano si respira aria da coprifuoco. Vediamo il servizio di Paolo De Souza. Anche nella tranquilla Oristano, dove gli eccessi si contano sulle dita di una mano, l'aria che tira la sera è quella del coprifuoco. Questo anche in dipendenza del fatto che il provvedimento del governo ha previsto per le 18 la chiusura di barre e ristoranti creando ovunque ampie zone d'ombra. Un deserto, quindi, che non mancherà di avere implicazioni di natura economica e sociale, con gli esponenti del governo che si sono affrettati a dichiarare che le attività interessate dalle serrate saranno risarcite con interventi finanziari immediati. Cambiamo argomento. Elezioni tra conferme e ricambi. Sentiamo Paolo De Souza. C'è qualche interessante novità nel risultato del voto di domenica scorsa. A Santa Giusta, ad esempio, dove Andrea Caso è stato eletto sindaco, centrando l'obiettivo di spodestare il quotatissimo sindaco uscente Antonello Figus, che con la sua lista puntava alla riconferma. Sorpresa anche Aguilarza, dove un testa-testa finale di 45 voti ha premiato Stefano Liquiri, che torna alla guida del comune dopo cinque anni di assenza. Tra i sindaci riconfermati, Manuela Pintus ad Arborea, Luigi Tedeschi a San Vero, Diego Loi a Santolussurgio, Giacomo Vino a Simages, Domenico Gallus a Pauli Latino, conferma anche per Serafino Pischetta a Fordongianos, Gianni Orrua Busacchi, Torecao a Neoneli e Antonio Pili ad Allai. Ricambi invece a Samugheo, dove viene eletto Basilio Patta, già assessore, nell'aggiunta con il sindaco uscente Antonello De Melas, mentre a Mogoro, Donato Cau, nell'incarico di primo cittadino, sostituisce Virgilio Broccia. Restiamo sempre fermi sulle elezioni. Sentiamo. Il risultato del voto nei grandi centri spesso lo si intuisce al momento della formazione delle alleanze e in Sardegna la conferma viene da Nuoro e Quarto, dove cocenti sono state le sconfitte del Partito Democratico, che nel capoluogo nuorese non è riuscito a mantenere l'alleanza con il sindaco uscente Andrea Suddu e a Quarto si è fatto sfuggire l'autorevole candidatura di Graziano Milia, nel passato sindaco rosso al 100%. Ora l'affanno delle supplettive e la disperata ricerca di alleanze per convogliare i voti e contrastare quindi l'affermazione di un centrodestra che da questo turno elettorale tutto sardo esce consolidato. Ovviamente le partite più importanti si giocano a Nuoro, dove il candidato sindaco del Partito Democratico, Prevosto, a urne ancora aperte, ha chiesto ai suoi elettori di votare per Soddu, che dovrà vedersela con il sardista Pietro Sanna, candidato sindaco per la coalizione del centrodestra, tra i due uno scarto di 500 voti a favore del sindaco uscente. Potrebbe essere identica anche la situazione di Quarto, dove il sardista Cristian Stevelli, che guida la coalizione del centrodestra, distanzia Milia di oltre 1.750 voti. Ma qui il Partito Democratico non ha ancora assunto alcuna decisione. Stesso scenario a Porto Torres, strappato ai Cinque Stelle, ed ora a contendersi il Comune, saranno Alessandro Pantaleo, centrodestra, 39%, e Massimo Mulas, 26%, sostenuto dal Partito Democratico. Cambiamo argomento, un approfondimento sui monumenti storici presenti a Oristano. Anche le stampe e le foto più antiche mostrano come la torre di Portigedda, già dalla fine del 1800, aveva seguito il destino delle altre fortificazioni dell'Oristano giudicale, in particolare la Cinta Muraria e la torre di San Filippo in Piazza Manno. Il monumento, posto nella strettoia di via Garibaldi, verso le vie Mazzini e Solferino, era denominato Sarruga di Portigedda, con la torre che già a conclusione del XIX secolo gli erano state addossate delle case private ad un piano verso la via Solferino, mentre il muro di Cinta a destra era più ampio, ma anche in questo caso confinante con una civile costruzione. Precedenti che si sono affermati in quella fase storica, quando il credo degli amministratori di allora era quello di demolire quanto veniva considerato vecchio, così come vennero definite le mura e la torre di Piazza Manno. Infatti la situazione attuale di Portigedda si presenta oggi stretta da civili abitazioni che hanno subito l'adeguamento del tempo e che comunque con la loro presenza ne hanno forse impedito la demolizione, ma anche una visualizzazione più completa. Ci spostiamo a Cabras. I cittadini hanno tempo fino al 30 ottobre per presentare in comune le domande per usufruire delle agevolazioni fiscali riguardanti l'imposta a Tari. In arrivo agevolazioni sulla Tari per i cabraresi. La giunta comunale ha messo a bilancio una somma di 32 mila euro per andare incontro sia ai titolari di attività sia ai bisogni dei cittadini. Si tratta di uno sgravio indirizzato in particolare a chi vive in condizioni di disagio economico e sociale e agli esercizi che durante i mesi di lockdown hanno subito una chiusura forzata delle attività e che non pagheranno l'imposta per i mesi di blocco, ha affermato il sindaco Andrea Abis. Le tariffe quest'anno hanno subito parziali modifiche a causa delle nuove regole a RERA, l'autorità nazionale di regolazione per energie a retti e ambiente che ha funzioni di regolazione e controllo della tassa sui rifiuti. Ciò, fanno sapere dall'ente amministrativo, ha avuto come conseguenza una riduzione della tassa dei rifiuti rispetto al 2019 per i nuclei familiari composti da 1 a 3 persone, mentre i nuclei più numerosi e le attività commerciali potrebbero aver avuto aumenti proporzionali. Il costo complessivo del servizio non è aumentato, ha continuato Abis. C'è stata tuttavia una ridistribuzione dei carichi in quanto ci siamo dovuti adeguare alle regolamentazioni obbligatorie nazionali. E questa è l'ultima notizia del nostro appuntamento con l'informazione. Ora vi lascio alle notizie nazionali. Grazie di essere stati con noi e buon proseguimento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.